Il dottor Stefano Liuzzi è candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega, candidato presidente Raffaele Fitto. E allora, dottor Liuzzi, perché Fitto, perché sostenere l'ex governatore? Ma perché Fitto? È il candidato presidente, è il candidato del centrodestra, è venuto fuori da un accordo del centrodestra, è bene quindi che lo si sostenga. Oltretutto la Lega, che all'inizio aveva proposto un proprio candidato, voleva cambiare candidato, ha avuto la capacità, ed è questo uno dei meriti che possiamo ascrivere alla Lega, di mantenere in piedi, in compatto, il tavolo del centrodestra. Quindi il candidato è stato scelto, è stato designato Raffaele Fitto, che io conosco da anni. Andiamo proprio come caratteristiche del candidato? È evidente che è un candidato che c'è esperienza, è inutile. Lui ha anche fatto il presidente, aveva 30 anni, adesso ne ha 51, credo che a 51 anni, dopo tanti anni di attività politica, di attività amministrativa, è stato ministro, è stato e parlamentare europeo, ci sia la competenza, l'esperienza sufficiente per poter garantire un'ottima tenuta della Regione Puglia. Grazie.